Buonasera a tutti e benvenuti, vi ringrazio personalmente anche a nome della famiglia Focherini della vostra presenza, ringrazio il parroco per aver accettato questo incontro sulla figura del beato prossimo Odoardo Focherini e ovviamente voi sapete il detto evangelico nemo profeta in patria, io ho tenuto e tengo e terrò incontri anche a Roma, in Sicilia, in Trentino, ma parlare ai propri concittadini, concordirci è sempre una delle cose più difficili. Perché c'è esigenza, perché c'è conoscenza, ma stasera più che una catechesi vorrei che fosse per voi e per noi insieme, per me anche, un incontro con una persona, Odoardo Focherini, il mio nonno materno, cioè il papà della mia mamma e questo ovviamente me lo ha fatto conoscere e amare attraverso il racconto e la memoria di mia mamma che aveva 4 anni quando lui è morto e dei miei zii e dei miei parenti. Dicevo un incontro con una persona, forse non tutti, probabilmente non tutti conoscono chi è Odoardo Focherini, magari ne hanno sentito parlare, magari conoscono la scuola Focherini o il centro Focherini che si trova a San Martino Spino, conoscono il nome di Don Dante Sala. Io ho scelto, come altre volte, il taglio della biografia, aiutato dalle fotografie che per fortuna la famiglia Focherini, nella persona in particolare della figlia maggiore, Olga, ha conservato nell'archivio familiare e che per fortuna adesso ci consentono di conoscere al meglio la figura, di vederla. Ecco, qui già adulta, ma riprendendone le fila, ripartendo dalla sua giovinezza. Sì, perché se è vero che Odoardo Focherini è stato riconosciuto come beato, cioè come una persona posta all'indice positivo della Chiesa, che la Chiesa ha investigato, che la Chiesa ha processato addirittura, voi vedete vi ho portato i tomi del processo di beatificazione, un vero e proprio processo con l'avvocato difensore, con dei testimoni che giurano sulla Bibbia, con l'avvocato del diavolo, esiste l'avvocato del diavolo, quello che cerca di mettere in difficoltà il potenziale beato, il potenziale santo e investiga sulle sue virtù, sulle sue qualità. È proprio vero che Odoardo Focherini in tutti gli ambiti della sua vita, in tutti i momenti della sua vita, si è comportato secondo i dettami del Vangelo. Ecco, stasera lo conosceremo un po' meglio. Come ricordava giustamente Don Franco, Odoardo Focherini non è solo un carpigiano, cioè uno appartenente alla diocesi di Carpi, ma si è trovato spesso a passare per i gruppi anche di queste nostre terre, anche di concordia, anche della bassa, non solo nei momenti dei congressi eucaristici, ma delle sue attività di Presidente dell'Azione Cattolica diocesana, prima di segretario, poi di segretario di circolo, e poi infine Presidente diocesano dell'Azione Cattolica. Di lui abbiamo un ricordo anche reale, questa spilla di cui, che è sua, e io porto in molto indegnamente, ma caramente, e sulla quale magari racconteremo anche un aneddoto che lo riguarda. Io vorrei però, come non ho quasi mai fatto negli incontri di presentazione, partire dalla fine. Quella che si presume sia la fine, cioè la fine dell'esistenza umana di Odoardo. È il testamento raccolto a voce da un suo compagno di prigionia in un lager tedesco. Odoardo Foccherini è in infermeria da qualche mese, è ferito alla gamba, con una ferita non curata, e si approssimano il 27 di dicembre, gli ultimi giorni della sua vita. Gli sono vicini alcune persone, in particolare un suo compagno di prigionia, cattolico, Teresio Livelli, e a lui, ai suoi compagni, lascia questo testamento spirituale, verbale, che ci è stato riportato. I miei figli, voglio vederli prima, tuttavia accetta, o Signore, anche questo sacrificio, e custodiscili tu, insieme a mia moglie, ai miei genitori e a tutti i miei cari. Dichiaro di morire nella più pura fede cattolica apostolica romana e nella piena sottomissione alla volontà di Dio, offrendo la mia vita in olocausto per la mia diocesi, i carpi, per l'azione cattolica, per l'avvenire d'Italia e per il ritorno della pace nel mondo. Vi prego di riferire a mia moglie, che le sono sempre rimasto fedele. L'ho sempre pensata e sempre intensamente amata. Queste sono le ultime parole terrene che conosciamo di Odoardo Focherini prima che l'inferno dei Lager lo inghiotta e insieme ad altre decine, centinaia di migliaia di persone venga reso cenere o bruciato su una pira nel campo di Ersbruck oppure cremato in un crematorio vicino. Di lui non rimangono neppure le spoglie e quindi lo preghiamo in una tomba carpigiana che però è solo un simulacro perché evidentemente alla moglie, 35enne, vedova, a casa, con 5 figli, non rimase neanche la tomba. Sette. Sette figli, chiedo scusa. E allora cominciamo a conoscere questo prossimo beato del 15 giugno, Odoardo Focherini. Vediamo la prima foto, questa è la foto ufficiale, adesso ripartiamo dall'inizio. Questo è il nostro, diciamo così, protagonista. Odoardo è al centro di una famiglia di origine trentina lo dico perché anche lui ha provato per interposti nonni la fatica, il distacco e il dolore dell'immigrazione. La sua famiglia veniva dalla Val di Sole, la Valle di Peglio, la Valle del Vioz e per mancanza di lavoro scese in pianura e quindi andò a Modena, si radicò a Carpi, ma anche a Concordia. Un banco della nostra amata chiesa di Via Pace a Concordia portava uno dei nomi Focherini. Odoardo subito viene provato nella sua essenza e forse anche questo caratterizzerà il suo sentire, il suo animo delicato, sensibile, gentile. A due anni perde la madre, Maria, e il padre, Tobia, si risposa con Teresa Merighi e avrà un'altra figlia. Comunque Odoardo amerà la sua matrigna, come si dice, come una vera mamma. Lo si capisce bene anche dalle lettere dal campo di concentramento che scrive anche ai genitori in un'espressione in particolare in cui dice poveri vecchi, non credevo di arrecare loro tanto dolore. Andiamo avanti, vediamo Odoardo Giovinetto qui con il costume dell'epoca, i vestiti dell'epoca. Avanti ancora. Odoardo è un ragazzo normale, è un ragazzo davvero come tanti. La biografia di Giorgio Vecchio, che è stata pubblicata l'anno scorso, lo racconta proprio come un ritratto di un uomo normale. Ed è per questo che vi ho messo queste foto. Qui è a Carpi, che gioca tranquillamente con i fratelli Rustichelli, che forse qualcuno di voi di Carpi conosce. Qui è una gita di ritorno dal Cimone. Odoardo è amante della montagna, ha origini trentine, gli piace molto l'escursionismo, gli piacciono i canti di montagna, tant'è che farà anche una mostra alpina a Carpi, riporterà anche un librettino per beneficenza di canti di montagna, gli piace suonare, gli piace cantare, gli piace sciare, quindi è anche uno sportivo. È un iscritto agli esperantisti cattolici. Quando lo presento nelle scuole dico è il suo profilo Facebook. Cioè, i ragazzi sorridono. Era uno dei modi in cui i giovani, e anche meno giovani, pensavano di poter comunicare con le persone all'estero. Voi sapete l'esperanto è questa lingua non legata a un paese, ma inventata con parole di varie lingue che poteva, nell'idea di questi scienziati, di questi studiosi, far comunicare le persone di diverse nazioni. Odoardo è iscritto. Odoardo è anche socio del pedale carpigiano. Quando la bicicletta, a quei tempi, i meno giovani di voi lo ricordano, è come il motorino di adesso, dà la libertà e dà la possibilità di muoversi liberamente. Odoardo girerà molto in bicicletta anche da adulto, sia per lavoro, sia per volontariato e impegni ecclesiali. Questo è lui nell'adolescenza. Anche qui, quando io lo presento alle scuole, ovviamente le professoresse storcono il naso, perché magari hanno a che fare con i primi problemi di fumo dei ragazzi. E io lo metto apposta perché è legato anche a un aneddoto che racconta Olga, la primogenita, cioè della venuta a Carpi, in occasione del processo di beatificazione, del postulatore romano della causa, padre De Rosa, che ovviamente, cercando una foto ufficiale del potenziale beato, ha sfogliato l'archivio fotografico della famiglia Focherini. Si è imbattuti in questa foto e ha detto beh, veramente non possiamo mettere un santo che fuma, magari fuori da San Pietro. Quindi ne cercheremo un'altra. Questa qui la teniamo come ricordo di un Odoardo Focherini, 14-15enne con la coppola e questa sigaretta all'angolo della bocca, tipo James Dean. E ovviamente un ragazzo che nell'adolescenza, come tutti i ragazzi, dà qualche pensiero nella sua vivacità, nella sua comunicatività, ma anche in quel momento della vita in cui si sa che si possono prendere anche strade non adatte, la madre adottiva, Teresa, lo affida, dicono le cronache familiari, a un ragazzo un po' più grande di lui che frequenta l'oratorio. Questo ragazzo si chiama Zeno Saltini. Forse qualcuno di voi ne ricorda il nome? Sì, sì. E Zeno Saltini accoglie la proposta della mamma di Odoardo di tenerlo nella sua ala, di farlo entrare in questo ambiente dell'oratorio Bernardino Realino di Carpi e con la promessa, dicono sempre le cronache familiari, di fargli i cappelletti, nel caso di invitare una domenica pranzo a faghi capplett, avrebbe detto mamma Teresa a Don Zeno. Don Zeno ha accettato perché era di bocca buona. E qui vediamo Odoardo che comincia a entrare in questo oratorio che era una pia istituzione fondata da un sacerdote, Don Armando Benatti, un sacerdote di famiglia molto ricca che si fece poverissimo e dedicò tutte le sue energie spirituali e materiali a costituire questo oratorio Bernardino Realini in cui non solo i ragazzi di strada, i ragazzi difficili, i ragazzi escarcerati, diremmo oggi borderline, vengono tenuti al di fuori dalle tentazioni della cattive compagnia, ma anche ricevono un'educazione spirituale, ricevono una formazione anche professionale, un avviamento a delle attività di artigianato, di stamperia, le ragazze di cucito. E qui lo vediamo Odoardo ravvicinati nella sua capigliatura tipica a Lumberta, si diceva a sinistra, al centro Don Armando Benatti, dicevamo questo pio sacerdote di cui non si è ancora approfondito bene la figura come decisa importanza, per dirvi l'Eden di adesso, di Carpi, è frutto degli impegni e delle fatiche di Don Armando Benatti. E quello di destra è proprio Zeno Saltini, non ancora dottore in legge, non ancora sacerdote, che però, molto spigliato, intuisce le qualità comunicative di Odoardo e lo coinvolge, prima nelle attività dell'oratorio e poi nelle attività dell'azione cattolica di cui faceva parte. grazie a tutti. Grazie.